Ad oggi nessuna squadra ci ha messo sotto a livello di gioco. Abbiamo comunque avuto sempre molte occasioni per creare un gol, per creare golle, però è pure vero che da difensore parlo. Non si può prendere sempre gol ogni partita. Sicuramente c'è da lavorare molto in questo, e da lavorare molto su questo aspetto perché non possiamo prendere a noi gol. Siamo passati in vantaggio a Venezia, potiamo raddoppiare subito, magari sarebbe stata un'altra partita, però posso dire questo. Poi è stata una disattenzione da parte nostra sul gol, e sugli altri gol. Dobbiamo migliorare questo, perché sennò andando avanti così non è possibile che ogni partita si subisca così facilmente il gol. Dobbiamo pensare subito a sabato e a dare subito una scossa, a smuovere la nostra posizione di classifica, che a mio avviso non meritiamo assolutamente di stare in quella posizione. Ecco, come hai detto tu, già da sabato deve esserci questa scossa per dare una svolta subito al nostro campionato. Io, l'Albinolef, conosco il mister Alvini, che mi ha allenato a Pistoia. Ecco, una buona squadra come tutte le altre. Sicuramente sulla carta potrebbe essere molto abbordabile, cioè potremmo giocare molto come ogni partita che noi scendiamo in campo per giocarci per lì, per andare a vincere. Qualsiasi squadra gioca per vincere. Grazie. 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 Grazie.